Lentini ai domiciliari ma in trasferta, beccato a passeggio in centro, fornisce false generalità, denunciato 37enne. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato un uomo di 37 anni per i reati di evasione e falsa attestazione sulla propria identità personale. In specie i poliziotti hanno sorpreso l'uomo che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Acireale, si trovava a passeggio nel centro di Lentini e per eludere gli accertamenti di polizia ha fornito false generalità agli agenti della volante del commissariato.